Ragazzi, ma che cazzo di animale è questo? Ragazzi! All'inizio sono andato, un pelicano in diretta si è mangiato! Ti dico, mamma mia, stai facendo video per i compagni mio! Ragazzi guardate un po' cosa vi ho fatto vedere, live! Troppo tardi! Anche i compagni! Un altro ragazzi, vai Spano, vai! E passa niente! Scupellicò in merda!